L'Onorevole Mauro Ottobre e il Sindaco di Tenno Gianluca Frizzi hanno incontrato la Quarta Commissione del Consiglio Provinciale per discutere la petizione sulla riapertura del punto nascite di Arco. Ottobre ha ricordato che il voto del Consiglio Comunale di Arco, che all'unanimità proponeva una nuova domanda di deroga, che tenga conto anche di Tione, ora non c'è più. Il Sindaco di Tenno Frizzi ha ricordato come l'Alto Garda abbia una cultura della sanità di lunga data. Il dato oggettivo, a suo avviso, è che per garantire la sicurezza occorrono investimenti, strumenti, dotazioni che, come dice, probabilmente si è scelto di destinare ad altri ospedali o ad un nuovo ospedale in particolare. Nei giorni scorsi la Quarta Commissione aveva incontrato anche alcuni rappresentanti del comitato spontaneo, sorto l'estate scorsa in Busa contro la chiusura del punto nascite che aveva raccolto migliaia di firme. Sentiamo com'è andata dalla voce dell'Onorevole Mauro Ottobre. In Quarta Commissione a Trento, ieri c'è stato l'incontro fra lei e l'assessore Zegni assieme al Sindaco Frizzi. Com'è andata? Sì, in seguito alla petizione popolare, la provincia dice chiaramente che c'è tempo sei mesi dove c'è la possibilità di audizioni, eccetera. Quindi, per quanto riguarda il punto nascite di Arco, siamo saliti io e Frizzi, Sindaco di Tenno, e ho relazionato in merito ai dati che la provincia ha fornito a Roma al comitato punto nascite. Io ho lamentato, non come parlamentare, ma come cittadino dell'Alto Gardeledro, che i dati che ha fornito Zegni, e qui si vede proprio la mala fede di una persona, che i dati che ha fornito in quel di Roma non sono reali. Allora, io non accetto, come cittadino di Arco e dell'Alto Garda, che Zegni abbia detto che noi ci impieghiamo esattamente 29 minuti ad arrivare all'ospedale di Loveretto. Allora, sappiamo le condizioni delle nostre strade, non abbiamo il tunnel e la viabilità, siamo fortunatamente, dico io, in un territorio di vocazione turistica molto alta, quindi questi 29 minuti, forse di notte, di notte sicuramente sì, con le strade libere, ce la facciamo, ma di giorno non è così. È notizia di pochi giorni fa della chiusura del punto nascite di Cavalese, per il quale l'assessore Zegni ha sollecitato un ricorso a Roma. No, Cavalese non sarà chiuso, Zegni ha già detto che lo riaprirà, anche perché la differenza nostra, cittadina dell'Alto Garda e di Cavalese, che a Cavalese c'erano 2000 persone che io ero presente, con tutti i sindaci in testa con la fascia tricolore, con addirittura la presidente del comune generale di Fassa, con la fascia anche lei, con i colori storici del comune, c'era anche il presidente della comunità di Valle, tutti compatti, quindi di Zegni si è piegato, invece noi, i nostri sindaci, servici occhi al soldo del padrone del partito, del partito democratico, non hanno avuto questa compattezza. Questa è la differenza, quindi il mio appello che faccio alla gente, ai cittadini dell'Alto Garda e Ledo, è di infischiarsene dei partiti di appartenenza e di verificare, di guardare se è giusto o sbagliato mantenere i servizi. A Cavalese ce la fanno, credo che Arco, 50.000 abitanti dell'Alto Garda, avrebbero gli stessi diritti. Si farà ricorso a Roma e in che modo si potrà mobilitare la piazza? Per il momento c'è un ricorso al presidente della Repubblica, formalizzato dal comitato e da sottoscritto per annullare la delibera di Zeni, ma quello che manca è la compattezza che hanno nelle valli, che hanno in Val di Non, che hanno in Val di Sole, che hanno a Cavalese. Allora, se i sindaci, a parte Frizzi, sindaco di Tenno, non hanno questo caraggio di andare contro a un assessore di fronte a dei dati, 29 minuti, lo ripeto, Arco, Roveretto, addirittura 31 minuti, Rida del Garda, hanno dimenticato i dati di Ledro, hanno dimenticato i dati di Drena, per esempio. Ma com'è possibile? Noi non possiamo accettare questi dati qua. Quando avremo la viabilità, credo che questi sarebbero i minuti, ma anche la fonte, hanno scritto Google Maps, uno scrive Arco, Roveretto, teoricamente vengono fuori con i minuti lì. Ma è una cosa teorica? Tutti sanno che non usciranno mai ad andare in 29 minuti a Roveretto. E quindi i sindaci non dicono nulla. Su questo punto stanno zitti. Sindaco di Arco, sindaco di Riva, sindaco di Dro, stanno zitti. Ma com'è possibile? Hanno paura di Zeni? È una cosa pazzesca. Cosa pazzesca. Quindi io credo che dobbiamo iniziare a compattarci e ribellarci anche noi come fanno i piccoli comuni a Cavalese, per esempio. L'hanno fatto loro, possiamo farlo anche noi. Grazie.